Chi è nell'export dell'industria lucchese? Lo dicono i dati di fine anno presentati da Sindustria. Malissimo il settore Dile. Tengono alimentare, tabacco ed elettronico. Dipendenti della provincia chiedono risposte sul loro futuro, mentre in altre città le sedi sono state occupate. A Lucca i lavoratori sono intervenuti durante il consiglio. Domani presidio di fronte a Palazzo Ducale. La bretella diventa tutta a pagamento. Lo hanno confermato i vertici salt. Tra poche settimane si pagherà anche per percorrere il tratto tra Viareggio e Massarosa. Finora gratuito. Il futuro dell'energia secondo i giovani. Due scuole di Viareggio e Pietrasanta, premiate da Enel per progetti innovativi legati alle rinnovabili e al risparmio energetico. Calderisi prepara la trappola antireggiana. Saltata all'amichevole di Monte Catini, la lucchese si è allenata al Porta Elisa disputando una partita in famiglia. Il tecnico studia le soluzioni giuste per la sfida del Giglio. Mingazzini recupera, ma è in forte dubbio Raicevic. Gran bel ciocchetto, incerto e spettacolare. Scatta sabato sera con la prova speciale dedicata a Perissinot, la ventitresima edizione del Rally sotto l'albero. Ciavarella campione uscente, ma dovrà difendersi dall'assalto di Michelini, Caldani, Dati e Ciuffi. Tutte le prove all'interno del ciocco. A tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati dagli studi del TG Noi. Edizione dunque che apriamo con i dati del rapporto congiunturale annuale che è stato presentato oggi dall'Associazione Industriali. Vediamo nel servizio cosa ne è emerso. È stato un anno decisamente critico per l'industria lucchese e lo confermano i dati presentati all'Associazione Industriali dalla Presidente Cristina Galeotti affiancata dai responsabili dei diversi settori produttivi. Sebbene qualche timido segnale di un'inversione di tendenza provenga soprattutto dai settori con forte propensione all'export, grazie al cambio favorevole euro-dollaro e all'andamento positivo dell'economia globale, quello che preoccupa maggiormente è il mercato interno, con un picco negativo nel settore edile che dal dicembre 2013 al settembre 2014 ha visto la chiusura di circa 90 imprese con una perdita occupazionale per quasi 1000 addetti. Dati preoccupanti specialmente si è affiancati a quelli del tasso di disoccupazione globale della provincia, passata dal 7,9% del 2012 al 9,6% del 2013 e delle ore di cassa integrazione autorizzate, con un più 66,5% per quella ordinaria e un più 13% per quella straordinaria. Tra i settori trainanti si registrano l'alimentare e il tabacco e quello elettronico, mentre una decisa flessione è stata riscontrata anche nel comparto nautico. Dati che naturalmente vanno letti tenendo presente l'eterogenità del tessuto industriale provinciale, come dichiarato dalla Presidente Cristina Galeotti. L'industria lucchese, come si sa, è eterogenea e questo gli permette anche di far sì che alcuni settori che vanno peggio poi si compensano quelli che sono andati un po' meglio e reggono le esportazioni, quindi l'aiuto ci sta venendo sempre di più dall'esterno del nostro paese. Lo vedremo soprattutto all'inizio del 2015, dove il rapporto col dollaro che è a noi favorevole e anche il basso livello del petrolio sicuramente potrebbero costituire una base importante per una ripartenza, anche se pur timida. Naturalmente qualcosa dovrà avvenire anche dall'interno, ci sono stati dei provvedimenti giusti anche a livello governativo, ma la fiducia rimane contenuta e le riforme, anche se non daranno dei ritorni a breve, comunque potessero innestare un po' di fiducia, quindi serve più che altro una ripresa dei consumi e degli investimenti interni al nostro paese. Il Tribunale di Lucca ha condannato a due anni di reclusione e 100 mila euro di risarcimento il giovane di 20 anni che nell'agosto dello scorso anno, durante la Notte Bianca, ferì un altro ragazzo di 23 anni lanciandogli contro una bottiglia nel corso di una lite scoppiata per motivi politici, assolti per non aver commesso il fatto gli altri tre imputati. Identificati gli autori della rapina avvenuta nell'agosto del 2013 ai danni dell'ex allenatore del Milan, Pippo Marchioro. Il fatto aveva scosso l'intera Versilia per la violenza e perché lo sfortunato protagonista era stato un personaggio molto conosciuto come Pippo Marchioro. I carabinieri hanno individuato gli autori della rapina avvenuta la sera del 21 agosto dello scorso anno ai danni dell'ex allenatore del Milan e della moglie. I militari hanno arrestato Gennaro Buonavoglia, 44 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Viareggio e denunciato a piede libero due persone, un viareggino e un tunisino. Quella sera tre individui, travisati e armati, attesero il ritorno a casa dei coniugi che a rientro dal mare, presso la loro abitazione sulle colline di Camaiore, parcheggiata l'auto, vennero affrontati dai tre che sotto la minaccia delle armi li imbavagliarono, bendarono e legarono con del nastro adesivo prima di rubare oro e argenteria. Le indagini dei carabinieri si concentrarono subito sulle tracce lasciate dai malviventi e sulla rifurtiva che molto incautamente la banda aveva venduto presso un compraoro della zona. Dopo aver ristretto il cerchio ad alcuni soggetti già dediti a furti e rapine, il DNA ha confermato la compatibilità dei profili biologici presenti sui guanti e sul nastro adesivo utilizzato da uno dei malviventi con il profilo biologico di Gennaro Buonavoglia. Le analisi genetiche effettuate dai RIS di Roma hanno così fatto scattare a suo carico la misura cautelare disposta dal Tribunale di Lucca, mentre gli altri due autori sono al momento denunciati a piede libero. Operazione contro l'abusivismo commerciale e l'immigrazione clandestina da parte della polizia nel corso del mercato settimanale di Forte dei Marmi. Durante il servizio gli agenti hanno sequestrato 30 pezzi tra borse e abbigliamento con i loghi di note case di moda. La polizia ferroviaria di Vareggia è arrestato un cittadino algerino di 47 anni. Nei giorni scorsi, dopo lunghe indagini dei dipendenti della Polfer, l'uomo era stato segnalato all'autorità giudiziaria per ben tre furti e danni di viaggiatori commessi nel mese scorso. Le prove raccolte dalla polizia sono state in tal senso schiaccianti e hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare. Ed ora ci occupiamo dei dipendenti della provincia che anche a Lucca sono in agitazione. Dipendenti della provincia in agitazione anche a Lucca. Mentre in altre città le sedi dell'amministrazione sono state oggetto di una vera e propria occupazione, a Lucca la decisione presa dalle sigle sindacali, è stata quella di interrompere il Consiglio provinciale e chiedere che l'ordine del giorno trattasse della questione dell'incertezza lavorativa dei dipendenti dell'ente a seguito della legge del Rio, che prevede lo smantellamento delle province. La richiesta è stata accolta all'unanimità e i lavori del Consiglio sono dunque proseguiti dibattendo proprio sulla questione e richiamando in maniera trasversale i parlamentari lucchesi sull'opportunità o meno di firmare la legge senza le opportune modifiche. Le nostre preoccupazioni derivano da un delirio istituzionale in pratica, qui abbiamo una legge, la legge del Rio che non è ancora entrata in vigore e già viene modificata con la legge finanziaria, quindi si crea un grosso caos istituzionale, non abbiamo certezze sul futuro dei lavoratori, dei dipendenti della provincia, quindi siamo molto preoccupati. Noi domani cominciamo un presidio fuori dalla provincia ma comunque saranno presenti tutti i lavoratori che possono essere presenti perché non possiamo interrompere i servizi, diciamo che è un'occupazione della provincia in modo in cui lo possiamo fare perché non possiamo interrompere il pubblico servizio. Tutte le province toscane sono già occupate. Buone notizie per i via Reggini e non solo. Da domani pomeriggio riapre al traffico Piazza Manzoni interessata in questi giorni dai lavori al ponte Girante. Ovviamente il ponte resterà ancora chiuso così come la via Battisti nel tratto compreso tra Piazza Manzoni e via San Francesco salvo l'uscita dal parcheggio di Piazzanieri e Paolini. Meno buone invece le notizie che giungono a proposito della bretella che diventerà pagamento anche nel tratto tra via Reggio e Massarosa. In qualche modo finisce un'era. La SALT ha deciso che tra pochi mesi la tratta di bretella tra via Reggio e Massarosa diventerà pagamento. Una decisione che era già stata presa nel 2007 ma che le varie amministrazioni comunali di Massarosa erano riuscite in qualche modo a ritardare. Ma adesso quando si concluderanno i lavori delle opere compensative all'uscita dello svincolo la tratta diventerà pagamento. Una decisione che avrà delle inevitabili grossi ripercussioni su tutta la viabilità alternativa dato che molti dei pendolari che da Massarosa si recavano a via Reggio utilizzando l'autostrada probabilmente sceglieranno l'alternativa della via Sarzanese per risparmiare sul pedaggio creando pesanti ripercussioni in termini di smog e traffico su un'arteria già notevolmente trafficata. Ancora in certi tempi di inizio del provvedimento come affermato dall'attuale presidente di SALT ma con tutta probabilità il pedaggio scatterà appena terminati i lavori delle rotatorie lungo la via Sarzanese. Ci occupiamo anche di futuro energetico in tal senso l'Enel ha premiato per i loro progetti due scuole. Alcuni mesi fa una qualificata giuria regionale composta da personalità del mondo della scienza, della scuola e delle istituzioni li ha giudicati tra i migliori progetti in Toscana sul tema dell'energia. Presso la centrale idroelettrica di Piano della Rocca nel comune di Borgo a Mozzano, gli studenti dei liceo artistico Stagi di Pietrasante e della scuola media Lenci di Viareggio hanno ricevuto le menzioni speciali dell'undicesima edizione del concorso ludico didattico che Enel dedica al mondo della scuola in Italia e nel mondo. Il tema è quello delle energie rinnovabili, dello sviluppo sostenibile, quindi il futuro del nostro pianeta e il concorso è quello Play Energy, un progetto ludico didattico che Enel promuove in tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia e del mondo. In Toscana hanno partecipato 379 scuole, tantissimi, migliaia di studenti, docenti coinvolti. I ragazzi si sono sfidati presentando progetti molto interessanti con proposte anche innovativi e fattibili, fantasiose e però davvero originali sui temi dell'utilizzo delle rinnovabili, dell'energia al servizio della comunità. Gli alunni della seconda Cide Lenci di Viareggio hanno presentato il progetto Un giorno senza elettricità, ipotizzando di vivere in un mondo privo di energia elettrica per riscoprirne il grande valore e un utilizzo intelligente. Gli studenti del liceo artistico di Pietrasanta hanno proposto il progetto Poseidon per l'illuminazione artistica dei monumenti del territorio e forme di illuminazione innovativa e smart in vari punti della Versilia. I vincitori parteciperanno alla finale nazionale dove nei prossimi mesi si sfideranno con i campioni delle altre regioni. Finalmente un parcheggio per la primaria Lorenzini di San Pietro a Vico. La scuola primaria di San Pietro a Vico avrà il suo parcheggio dopo tanti anni di proteste da parte dei genitori insegnanti. Il comune ha annunciato il via dei lavori entro gennaio. Nel corso di un'assemblea pubblica il sindaco Tambellini e l'assessore Marchini hanno presentato l'atteso progetto. Sul piazzale del Molino Pardini, grazie alla disponibilità della proprietà, verrà realizzato temporaneamente e ad uso esclusivo della scuola un parcheggio da 40 posti auto, fruibile fino alla fine dell'anno scolastico ed eventualmente prorogabile anche per il prossimo. Il comune sistemerà l'asfalto, disegnerà i posti auto e si occuperà della messa in sicurezza del marciapiede per accedere al cortile della scuola senza pericoli. Un vero regalo di Natale, hanno commentato i genitori. Dopo anni di impasse, l'amministrazione e in particolare l'assessore Marchini hanno recepito la nostra esigenza di arrivare in tempi brevi ad una soluzione che risolvesse l'emergenza. In piena controtendenza rispetto a tutte le analisi sociologiche che vengono periodicamente presentate in Italia sul tema, aumentano ad alto pascio le coppie di lunghissima durata. Se nel 2012 e nel 2013 erano state 48 le coppie che avevano festeggiato i 50 e 60 anni di matrimonio, nel 2014 sono state infatti 53. Sabato si terrà la tradizionale festa organizzata dal comune, l'appuntamento è nella sala dei granai alle 15 e 30. Un evento per celebrare il grande maestro Giacomo Puccini. Il 22 dicembre Lucca celebra il 156esimo anniversario della nascita di Giacomo Puccini con un evento speciale tra parole e musica. Alle ore 21 al Teatro del Giglio va in scena lo spettacolo Puccini racconta Puccini che è stato presentato alla casermetta San Colombano da Comune, Teatro, Fondazione e Centro Studi Puccini. Sul palco del Giglio a dar voce al maestro sarà l'attore Michele Placido che interpreterà le lettere scritte dal compositore tra il 1877 e il 1896. Ad accompagnare Placido il soprano Serena Farnocchia che con la sua voce di grande interprete pucciniana intreccerà alle missive le aree più suggestive delle opere composte nello stesso periodo. Con loro ci saranno Andrea Severi al pianoforte e Domenico Pierini al violino. In occasione dell'anniversario, lunedì 22 dicembre, la casa natale di Puccini sarà aperta dalle 10 alle 16 con ingresso gratuito. Il biglietto maggio andrà ritirato il giorno stesso presso la biglietteria in piazza Cittadella. E con questo servizio si chiude anche la prima parte del TG Noi. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, subito dopo le notizie sportive.